Il quale è il 500, i versi sono di un frate e di una musica. Noi abbiamo cantato questo brano a quarantina di anni fa la prima volta. Lo ricantiamo perché in mezzo a questo toro mancano dei fuoriclasse spariti nel tempo. I nomi di Giovanni, di Franco, di Errico, Maria Maria, di Rita, Aleccio, in questa atmosfera probabilmente cantano con noi. Noi abbiamo cantato questo brano a quarantina di anni fa la prima volta. Grazie. 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 Grazie.